Da Nichi, il poeta governatore della Puglia, per dieci lunghi anni. Un percorso non facile, tutto in salita, disseminato di insidie, ma anche da tante soddisfazioni. Fra i punti salienti del suo governo, Vendola ricorda di aver operato una pulizia e un risanamento del bilancio, che non erano affatto scontati. In questi dieci anni, sottolinea che avrebbe voluto aprire più cantieri se non fosse stato impiccato alla corda del patto di stabilità. E che avrebbe preferito non governare nel decennio che ha conosciuto la più grave crisi economica mondiale. Nel complesso, il governatore ritiene di aver messo ordine in un ente che sembrava navigare a vista, riferendosi al capitolo sanità e un settore nel quale si è modernizzato molto, nonostante una condizione strutturale di grandissima retratezza e vetustà. La differenza rispetto a dieci anni fa è che oggi ovunque vi sono lavori in corso, ma ora per Nichi il poeta l'impegno più urgente è sorvegliare la genuinità del progetto di cambiamento del centro-sinistra. Un compito che Vendola affida a noi a sinistra per la Puglia, lista con la quale il governatore, insieme a Dario Stefano, sostiene Michele Emiliano, accusato spesso di aver allargato eccessivamente le maglie della coalizione in vista delle elezioni. Vendola considera uno sfregio i fenomeni di trasformismo che inquinano la credibilità del progetto politico. E Renzi, a suo avviso, è bene che sia alla larga dalla Puglia, perché dovrebbe dare qualche spiegazione su scelte che il Presidente del Consiglio impone a questo territorio. Dalla prodo del gasdotto Tappa a Melendugno alle trivelle nel nostro mare, fino alla riforma della scuola, votata alla Camera da esponenti pugliesi del Partito Democratico. Infine, sui quattro impresentabili che la Commissione Antimafia ha individuato tra i candidati pugliesi, il governatore evidenzia quanto sia grave che nelle liste ci possano essere persone con l'alea e dei rapporti con ambienti malavitosi. E precisa, dinanzi ai trafficanti di voti dovremmo tutti tenere alta la guardia.